e lì allora è cominciato con una sconfitta questo playoff è un playoff per il quinto posto in cui però andrea gianni ha dato spazio a tanti dei ragazzi che come te avevano giocato un po meno durante il campionato è per voi una grande occasione per concludere la stagione con minuti spesi in campo certo ieri non è andata l'altro ieri non è andata come ci auguravamo però abbiamo lottato e siamo stati in campo questo era quello che volevamo fare e volevamo lavorare e far vedere su cosa abbiamo lavorato durante l'anno e in queste settimane e quella di domani sarà un'altra occasione per fare del nostro meglio la sticella probabilmente si alza un pochino e dovremmo essere bravi a stare lì con la testa soprattutto nelle fasi di gioco nelle fasi di gioco in cui siamo in difficoltà che possono essere tutte e quindi dobbiamo aspettarci di essere in difficoltà in ogni situazione in cambio palla in in break point sulle alzate o qualsiasi cosa e può succedere di avere qualche defiance quindi dobbiamo aspettarci per essere pronti a risolvere avete raddrizzato la partita con ravenna per poi alla fine perderla serve anche fare un salto di qualità da questo punto di vista per capitalizzare quello che di buono con così tanti giovani in campo riuscite a fare certo ci siamo costruiti bene parlo della partita di ravenna sia il quarto che il quinto set arrivando nelle fasi finali con un buon vantaggio che poi non siamo riusciti a capitalizzare anche questa sarà sarà un'altra sfida per domani riuscire a trovarci in quella situazione e chiudere subito i set con poche palle decisive che partita ti aspetti piacenza un'altra delle squadre che magari puntava e sperava di essere in questo momento ancora dentro al playoff per lo scudetto che partita sarà sarà una partita tosta una squadra di grandi campioni composta grandi campioni sia sia nelle prime file che che nelle seconde file quindi non sarà facile bisogna essere aggressivi fin da subito dobbiamo cercare di divertirci di di far vedere quello di cui siamo capaci dal punto di vista personale come stai vivendo questo finale di stagione questa opportunità che hai e avete di avere più spazio ma la nostra vita giocare a pallavolo quindi è una gioia per me essere in campo sempre sia quando aiuto i miei compagni da fuori sia quando sono in campo protagonista quindi non è molto diverso dal resto del campionato mi preparo sempre per stare bene meglio fisicamente psicologicamente e poi durante la partita per stare concentrato nei momenti nei momenti chiave